Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. La pagina politica in apertura a Chieti. Volano gli stracci negli ultimi giorni di campagna elettorale in vista del ballottaggio di Paolo, di giustizia sociale, querela di Primio, di NCD. Ma il sindaco uscente pubblica il documento del Bura con la nomina della moglie di Di Paolo nell'ex consorzio industriale Asi Sangro. Il servizio. Scampo agli infuocati di campagna elettorale a Chieti in vista del ballottaggio di domenica prossima. Bruno Di Paolo ha sporto una denuncia querela contro il sindaco uscente e ricandidato Umberto Di Primio. Al primo turno, già vice sindaco di Di Primio, Di Paolo è stato uno degli otto candidati a sindaco per il rinnovo del Consiglio Comunale di Chieti. Con la lista giustizia sociale e altre due liste, ottenendo complessivamente l'8,5%. Di Paolo e le tre liste hanno firmato l'apparentamento con il candidato sindaco del centrosinistra Luigi Febo in vista del ballottaggio del 14 giugno. Di Primio mi ha accusato di aver nominato mia moglie al consorzio industriale Asi Sangro, dice Di Paolo. Allora tiri fuori il documento di nomina con la mia firma in calce e lo mostri a tutti. Il documento esiste. Di Primio l'ha pubblicato sui social network. È un estratto del Bura del 2005 e la firma in calce dell'allora presidente del Consiglio regionale, Marino Roselli. Di Paolo è stato consigliere regionale in quota nuova DC all'opposizione del governo del turco. Nella sua nota Di Paolo prosegue scrivendo che Di Primio lo ha accusato di aver fatto ricorso per ottenere il vitalizio. Allora tiri fuori la copia di ricorso o altro documento comprovante la tale richiesta e non qualche notizia di stampa erroneamente riportata e successivamente smentita. Altrimenti è solo diffamazione a causa Di Paolo, il quale riferisce di non prendere alcun vitalizio né di aver fatto ricorso per usufruirne, ma precisa di aver fatto richiesta di riduzione dell'eventuale vitalizio al compimento del 65esimo anno di età del 50%. Mi ha accusato di non aver prodotto nulla come vice sindaco e che non si trova traccia nei miei provvedimenti in giunta, prosegue Di Paolo nella nota. Allora Di Primio tiri fuori l'elenco completo delle delibere portate in giunta nel periodo in cui sono stato vice sindaco, così sarà smentito pubblicamente. E torniamo a parlare dell'azienda unica dei trasporti locali TUA, perché all'indomani dell'inizio della fusione il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, commenta al Tg Max, TUA nasce anche in vista della regione macro-adriatica. Presidente, lei ha toccato un argomento estremamente importante, TUA in visione di macro-regione. Sì, perché questa è una infrastruttura non solo dell'Abruzzo e degli abruzzesi, ma anche della macro-regione adriatico-ionica. Noi abbiamo 40 milioni di persone servite grazie a questa società, 36 milioni di chilometri garantiti e abbiamo una expertise straordinaria per andare molto oltre l'Abruzzo, per essere un'armatura della nuova grande regione dell'Adriatico-ionico. La gestione di TUA in questa prospettiva non la preoccupa un po'? Assolutamente no, perché abbiamo esperienza, organizzazione e management di qualità. Il Rettore D'Amico è stata una eccellenza lodevole. Noi adesso ci doteremo anche di ulteriori elementi di premura, per esempio software avanzatissimi per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi. Il nostro volume di appari sarà di oltre 142 milioni di euro. E con questi volumi e con questi... All'Aquila, dove oggi si è svolto un sit-in di protesta davanti agli uffici della Prefettura per l'insediamento di Accord Phoenix. Vediamo. Sit-in sotto la Prefettura Aquilana questa mattina per la contorta e poco chiara vicenda dell'insediamento dell'Accord Phoenix. Mentre i lavoratori attendevano buone nuove, nei piani alti si svolgeva un tavolo su questa tematica che ha visto la presenza dei rappresentanti dei sindacati, CGL e Cisle Will, il vicepresidente del Consiglio regionale, Giovanni Lolli e la senatrice Stefania Pezzopane. Da questo ulteriore incontro la vicenda sembra assumere contorni più definiti, soprattutto dopo il lascia passare da parte di Invitalia. Per Invitalia già loro possono partire con i lavori, con tutte le iniziative da fare e tutto quanto. Per ciò che riguarda l'acquisizione degli immobili, voi sapete che metà modulo è della FIMEC e altro metà modulo è del Comune, però in affitto, in gestione alla ditta Palmerini che con un regolare bando si è giudicato all'affitto. Quindi per ciò che riguarda la parte di FIMEC, praticamente il commissario già è stato sentito dover fare un bando, non un bando, gli arriva una proposta da Accord Fenix e lui la deve rendere pubblica questa proposta, rendendola pubblica questa proposta praticamente se ci sono altri acquirenti si faranno avanti se no lo aggiudica, lo vende a Accord Fenix. Per ciò che riguarda la parte del Comune che è in affitto a questo imprenditore aquilano si stanno vedendo perché la proprietà è vera che è del Comune, ma questo imprenditore ha un affitto non so se per 10 anni, 20 anni, quindi bisogna trovare un accordo con l'imprenditore ma spera che si farà con l'imprenditore, come rescindere questa parte del contratto e poi il Comune venderla a Accord Fenix, perché anche in Italia pretende che gli stabili siano di proprietà di Accord Fenix. Andrebbero poi fatti dei lavori sulla struttura in questione per una tempistica non superiore ai 6 mesi. Ulteriore rassicurazione giunge sul profilo delle assunzioni, verranno infatti impiegate 128 persone appartenenti al famoso polo elettronico, punto sul quale Lolli si è soffermato con maggiore attenzione al fine di non creare equivoci. L'investimento che si fa qui è il progetto di occupare 120 persone, è il più grande progetto occupazionale che si fa in tutto Abruzzo negli ultimi 12 mesi. Il progetto secondo dopo di questo è il progetto che fa Uform, che è un'azienda del sistema automotive a Castellalto vicino a Teramo, è di 70 occupati. Questo è dal punto di vista occupazionale la cosa più vasta che c'è stata in questi ultimi 12 mesi. Per quello io non riesco a capire tutta questa opposizione che c'è stata in una parte larga della città di fronte al fatto che si stava a cercare di fare qua la cosa e sembrava che non andava bene. Però ormai, nonostante tutto questo ostacolo, la cosa è fatta, risolta in vitalia. L'ha comunicato ufficialmente l'accordo è fatto. Adesso bisogna correre, entro sei mesi non è che si può cominciare, entro sei mesi bisogna già aver testimoniato che c'è il primo stato avanzamento lavori. Adesso quindi bisogna correre a tutta birra. Il problema è che la ditta deve fare gli interventi sullo stabile. Per fare gli interventi sullo stabile deve avere il possesso dello stabile. L'unica cosa che noi abbiamo detto e sulle quali qui io mi impegno come vigilante è che siccome i disoccupati all'Aquila sono tantissimi, noi questa cosa l'abbiamo fatta per il polo elettronico. La cronaca, una donna è morta oggi in ospedale a Pescara dopo essere stata investita con il marito sul lungomare di Montesilvano. Gravi le condizioni del coniuge che ha 74 anni, soccorso e condotto in ospedale in ambulanza. In base alla ricostruzione dei carabinieri di Montesilvano i due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati investiti da un'auto condotta da un operaio 41 anni di Silvi. L'investimento è avvenuto alle 6.50, il veicolo è stato sequestrato, il conducente è denunciato per omicidio colposo. L'uomo era sotto shock. Scuola ha un attestato per la conoscenza della lingua inglese come volano per l'inserimento nel mondo del lavoro. A Lanciano l'ITS Sistema Meccanica consegna di diploma agli studenti del Da Vinci. Bella e fruttuosa novità quella che ha coinvolto decine di studenti del territorio frentano, il riferimento al progetto eLearn English Student Car promosso e finanziato dalla fondazione ITS con l'obiettivo di dare agli studenti uno strumento, la conoscenza dell'inglese appunto, che possa proiettarli nel futuro mondo lavorativo con maggiori competenze e professionalità. La fondazione Sistema Meccanica di Lanciano ha messo infatti in campo una serie di attività volte a migliorare tutta la filiera formativa del territorio coinvolgendo direttamente gli studenti delle scuole tecniche della provincia. In settimana gli studenti dell'ITS Da Vinci di Lanciano hanno ottenuto i diplomi con corsi di inglese moderni, innovativi. Il dirigente Gianni Orecchioni. Una esigenza che è diventata un progetto finanziato. Oggi stiamo a premiare a due anni di distanza i ragazzi che hanno partecipato a un corso per provare a insegnare l'inglese in una maniera completamente diversa utilizzando piattaforme digitali, quindi un inglese parlato, giocato, con aspetti anche di carattere ludico, con piccoli gruppi, con l'assistenza di un docente madrelingue. L'abbiamo sperimentato per tutti i ragazzi che l'anno scorso facevano le terze classi. Quest'anno è arrivato a conclusione per i ragazzi che ultimano il quarto anno. Pensiamo di aver fatto una cosa molto interessante anche a livello di sperimentazione nazionale. Tra le novità del corso, la divisione dei ragazzi in gruppi linguistici omogenei, la presenza di un insegnante madrelingua, l'utilizzo di uno strumento interattivo e multimediale che utilizzando approcci didattici vicini ai giovani, i video, i cartoni, la musica, basati anche su un apprendimento ludico, hanno facilitato l'autoapprendimento della lingua inglese. Ecco Livia, congratulazioni. Grazie. Allora vediamolo, ecco qui, attestato di frequenza, è stato fruttuoso, quante cose hai imparato. Adesso hai una padronanza, non dico completa, ma importante della lingua? Sì, sì, abbiamo migliorato l'inglese attraverso l'ora che facciamo con la professoressa madrelingua, ma anche con l'utilizzo della piattaforma online, in cui con giochi, con vocaboli, ma anche con visioni di pezzi di film, abbia potuto migliorare e rendere più facile l'apprensione dell'inglese. Nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale civile di Pescara, il club Chivanis Pescara Aternum propone il progetto Leggiamo intorno al mondo per i bimbi in ospedale. Primo in Italia, il club Chivanis Pescara Aternum propone, nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale civile di Pescara, il progetto Leggiamo intorno al mondo per i bimbi in ospedale. L'iniziativa è stata presentata dall'Adricesta Onlus di Carla Panzino e dal club presiduto da Franco Coletti. L'obiettivo dichiarato è quello di trasmettere l'amore per la lettura dimostrandone l'importanza ai bambini, con un programma di service che coinvolge attivamente i giovani e li incoraggia a intraprendere un viaggio di lettura che durerà tutta la vita. È un progetto che vuole stimolare i bambini alla lettura, come strumento per raggiungere livelli di conoscenza più alti, ma anche per socializzare, anche come stimolo per nuove iniziative. L'Adricesta Onlus ha aderito al progetto adattandolo per la sua diffusione nell'ospedale di Pescara e specificatamente nei reparti di pediatria e chirurgia pediatrica. L'abbiamo progettato con tanto impegno affinché i bambini possano leggere e siano incentivati a leggere, ma soprattutto per creare un momento di emozione, per fare entrare il mondo reale all'interno di un reparto pediatrico, all'interno dell'ospedale, perché l'ospedale sempre più deve avvicinarsi al mondo reale. Il progetto, spiega il professor Pierluigi Lallichiesa, direttore del Dipartimento Materno Infantile della Chirurgia Pediatrica, rientra nel piano di umanizzazione delle cure del bambino in ospedale. Io parlo per quello che riguarda la chirurgia pediatrica, quindi i bambini operati, i bambini che devono essere sottoposti a interventi chirurgici, quindi un ambiente che di per se stesso potrebbe essere piuttosto traumatico anche psicologicamente per il bimbo e la famiglia. Ha anche un effetto volano perché ovviamente stimola la cittadinanza e la gente comune a cercare di dare qualcosa all'ospedale che è patrimonio e casa di tutti noi che paghiamo le tasse e che viviamo in questa realtà. A San Vito Chietino è in attesa delle feste patronali, folla di appassionati di auto e moto d'epoca al raduno del Club Frentano Ruote Classiche. Vecchie signore su due e quattro ruote affascinanti, vanitose, curate e truccate per l'occasione ma intatte nell'originale splendore. Il raduno a San Vito Chietino in occasione delle feste patronali ha consegnato agli appassionati e ai curiosi ben 70 tra auto e moto d'epoca con la firma del Club Frentano Ruote Classiche di Lanciano e del Vespa Club di San Vito Chietino. Un viaggio a ritroso nel tempo, attualissimo però nel suggestivo percorso lungo la costa dei Trabocchi, per le colline verdeggianti di Ulivi fino alla Cantina Collemoro di Guastameroli di Frisa per un doveroso brindisi a tanto fascino. Auto d'epoca per tutti i gusti, la Ford T del 1919, quella più datata, la Buick del 37, la più elegante, poi Maggiulini anni 60, le Lancia a cavallo tra gli 80 e i 90. Bella la Citroën del 38, immortale il Triumph anni 60. Piccole, medie e grandi automobili che hanno fatto la storia sulle strade di Mezzomondo. L'autobus 642, modello Padana, il mezzo più grande, al servizio della ditta di Fonso. Nel 1953 gli autobus si guidavano a destra. E poi Cadi, la Calfa, tanto altro. Tra le moto, nella regione di Corradino d'Ascanio, ecco le Vespe dagli anni 50 in su. La moto più vecchia, una Douglas del 1907, Scintilla, l'Arley del 42. Tanta bellezza non può restare a lungo in garage e allora applausi scroscianti per una giornata doverosamente all'aria aperta. Soddisfatti il presidente ruote classiche Gianni Olivieri e la presidentessa del Vespa Club Maria Testa. La pagina del calcio di Serie B, Vincenzo Vivarini rinnova col Teramo fino al 2017 nel primo campionato della storia dei Biancorossi in cadetteria. Da adesso si comincia a lavorare per allestire una squadra all'altezza. Solo questione di tempo per tenere col fiato sospeso i tifosi, mai dubbiosi però del lieto fine. Vincenzo Vivarini, artefice della storica promozione in Serie B del Teramo dopo 102 anni di storia calcistica, allenerà i Biancorossi anche nella prossima stagione. Il tecnico di Ari ha firmato il prolungamento del contratto legandosi alla società Biancorossa per altre due stagioni, dunque fino al 30 giugno del 2017. Limati i dettagli del nuovo legame col Teramo, la stretta di mano sincera col presidente Campitelli ha ufficialmente dato il via a programmi e progetti dell'anno primo del Teramo in Serie B. Nei giorni scorsi anche il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe aveva raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto, dunque team vincente non si tocca. Fino al 2017 è un accordo dove ci siamo sentiti una volta sola perché tra di noi non è una questione di soldi o di altro ma è soltanto una questione di progetto. Lui vuole una squadra giovane, vuole dei giovani importanti e sarà accontentato su tutto. Noi cercheremo di poter fare una squadra dove deve raggiungere il prima possibile la quota salvezza. Abbiamo dimostrato da subito la mia volontà, la volontà della società, in tempi tecnici ci siamo messi d'accordo penso subito con il presidente, i motivi sono semplici ed importanti perché a me è sempre interessato molto il progetto tecnico e qui a Teramo secondo me è quello giusto. Il primo passo del club sarà adesso quello di risolvere la questione dei rinnovi dei giocatori scadenza il 30 giugno. L'elenco comprende il mediano Amadio, il difensore Caidi, il portiere Tonti, il vicecapitano Speranza dovrebbe allungare l'accordo che lo lega al Teramo fino al 2016. In stand by le posizioni di Masullo, Di Matteo, Fiore e Bucchi. In entrata, nomi Giacaldi, dal centrocampista del Ponte d'Era Paolo Bartolomei, 25 anni, Di Marco Pinato, del Milan, poco impegnato quest'anno con la Virtus Lanciano, Di Lorenzo Del Pinto, svincolato e quest'anno con la Maglia dell'Aquila. Ovvio che le attenzioni maggiori sono rivolte a trattenere in bianco-rosso Donnarumma e Lapadula, la coppia del gol. Ancora a calcio, dopo sette anni il gruppo Bellia cede la proprietà del Chieti Calcio che milita in Serie D ad un gruppo di imprenditori romani. Il cambio al vertice societario è stato ufficializzato a Roma presso lo studio di un notaio. A guidare Chieti Calcio sarà il gruppo Giorgio Pomponi, attivo nella capitale nel campo della grande ristorazione e dell'organizzazione di eventi. In società resterà Walter Costa che nell'era Bellia ha ricoperto il ruolo di vicepresidente che manterrà anche nel nuovo assetto dirigenziale. Ringraziamo il presidente Bellia per quanto fatto in questi anni e da oggi, ha spiegato Costa, voltiamo pagina con l'obiettivo di garantire un futuro importante ai colori nero-verdi. Chieti merita di tornare in Lega Pro, ha proseguito Costa, e noi lavoreremo per cercare di riportare questa società in categorie importanti come meritano i tifosi. La nuova proprietà sarà presentata venerdì prossimo 12 giugno. Ed è tutto per questa edizione del Tg Max. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che il Tg, servizi e programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it e ci trovate anche al nostro canale YouTube e ai profili ufficiali dei social network Twitter, Facebook e Google+. Arrivederci. Grazie a tutti.